Conference League, le possibili avversarie fiorentina e quarti di finale Sivas, Turchia, la Fiorentina elimina il Sivas Sporre e aspetta il sorteggio per i quarti di finale di Conference League in programma venerdì 17 a Nyon. Le possibili avversarie dei Viola e quarti di finale non ci sarà la possibilità di un darby con la Lazio e quarti di finale. Ma le alternative non sono da sottovalutare, la squadra di Vincenzo Italiano. Infatti, potrebbe pescare una tra leque, Basilea, Nizza, Basilea, Azalkmar, Anderlecht e West Ham, virgola.